Eh, ti piace la canta? Zio, la smetti? Forza, dai, allora, signori che stasera, visto che la serata è anche musicale, canteremo, no, 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 canteremo il zio, non canto, zio, cantiamo, non li dà. Canta tu, dini qua e canta tu, ok? Vini qua, sali qua sotto e ti sei la cia, tranquillamente, deve essere la figlia, non zio. Allora, allora, tale età e tale figlia. Allora, iniziamo e canteremo, canta tu in inglese, in francese, ah, tu conosci tutte le lingue, tutte le lingue, vuoi spiegare in inglese? Qualcos'altro? Mi stai prendendo in giro? E se tu puoi francese? Chantéclair, decolleté, culotte, bidet, bidet, Per favore, allora, eh, francissimo, roulotte, roulette, dai, per favore. Allora, di una cosa carina almeno, ah, che è? Carina, una cosa carina. Tre sedie, eh, per favore, è un calciatore, è un calciatore. Allora, andiamo avanti, grazie di giro, lo convico io. Cos'è? Prego, musica, salto, c'è la calda tu, dai. Caro zio, sai che si fa? No, lo so già, e non mi dà, ma su Dani, canta con noi. No, 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 io non canterò, perché sono rò. Voglio solo uscire di là, andare con Lea a passeggiare. Sì, no, ti lascia la stare, Lea. Oh, sa, dai, una canzone. Adesso che segui con me, mi sembra inevitabile cantare. Mi sicuro riuscirai. Non voglio né convincerti, vuoi duderti di nulla sale.